Musica Può sembrare un paradosso per un territorio votato da sempre all'agricoltura, eppure la voglia di tornare alla terra è più forte che mai, in un contesto come quello di Taranto e Provincia, che ha registrato in questi anni la forte presenza dell'industria e non solo. Voglia di mangiare prodotti sani, coltivati con le proprie mani, ma soprattutto voglia di condividere e socializzare, ritrovandosi insieme a piantare e dialogare. Una voglia così grande è da spingere una trentina di famiglie castellanetane a fondare l'associazione Castellaneta Evolution Orti Condivisi, che ha in gestione circa un ettaro di terreno incontrato a Zirifico, equamente suddiviso, in cui ha preso piede il primo esperimento di orti sociali nella città di Valentino. L'associazione Castellaneta Evolution Orti Condivisi è un esperimento sociale. Perché dico esperimento sociale? Mettere alla prova tante persone su un unico pezzo di terra e condividere quello che è la terra, quindi coltivare e aiutare il proprio vicino, che è una cosa che ormai non si fa più da tanto tempo. È nata proprio per promuovere intanto la cultura biologica, che insomma adesso con i grandi mercati non c'è più la roba biologica naturale. Abbiamo visto che è facile coltivare naturalmente qualcosa, al senso usare pesticidi e disservanti. Il bello di vedere nascere la propria lattuga, l'insalata, i piselli, le fave, e poterle mangiare con soddisfazione e dividerle con il proprio ortolano è qualcosa di impagabile. L'associazione, attiva da pochi mesi ma già partecipe alla vita sociale castellanetana, ha celebrato sabato 28 maggio una giornata di festa per presentarsi ufficialmente alla comunità e per ringraziare gli alunni delle scuole di Castellaneta che hanno partecipato al concorso per ideare il logo dell'associazione. Quindi abbiamo pensato come coinvolgere la nuova generazione alla cultura biologica, al naturale, facendoli disegnare un logo. Quindi abbiamo indetto un concorso tra la scuola media giovinazio e la scuola media surico, dove abbiamo chiesto loro di disegnarci un logo, che è questo qui, fatto da due ragazzi della prima C della Surico, Marica e Federica. Abbiamo individuato questo perché ci sembra l'emblema, è tutto chiuso qui dentro, in questo disegno. Sono due mani che si congiungono sopra gli orti, quindi è quello che in realtà noi facciamo. E' come ripagare questi ragazzi, invitandoli in questa giornata a condividere con noi quello che è l'occhio condivisi e a offrirgli un picnic. In realtà noi non facciamo solo piantumazione o coltivazione, stiamo promuovendo il compost, il compostaggio. In realtà il compostaggio che cos'è? Non buttare più l'organico in un'unica pattumiera, ma conservarla e portarla in quelle cisterne che abbiamo distribuito nei nostri orti. Il laboratorio di show cooking viene fatto dall'associazione Donna Papper, che è anche una nostra socia, dove lì promuove la buona cucina con gli orecchietti, i frocid, gli gnocchi fatti in casa al ritmo di musica. Con il progetto Orti Condivisi si coltivano relazioni, prima ancora che prodotti, in un vero e proprio modello di agricoltura sociale che potrebbe coinvolgere anche altre zone del paese. Quindi ci sono 31 famiglie che collaborano in questo esperimento sociale. E' diventata una grande famiglia, come in ogni grande famiglia capita il giorno del disguido, però il bello è risiedersi intorno a un tavolo, scambiare le idee e andare avanti. Avremmo anche bisogno di una mano data dall'amministrazione, nel senso che ci sono tanti terreni in disuso e noi saremmo in grado di poterli far rinascere anziché tenerli là buttati. Se loro aiutano noi, noi siamo contenti di aiutare loro. Grazie. Grazie a tutti.